Seguendo le linee strategiche diramate dal Ministero dell'Interno per la prevenzione del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle aree ritenute a rischio e con il coinvolgimento dei più giovani continuano serrati i controlli da parte degli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Urbino negli istituti scolastici superiori della città ducale ed in alcuni luoghi vicini ad essi frequentati dagli studenti. Dall'attività di polizia è emerso che il consumo di stupefacenti è presente anche all'interno delle strutture scolastiche, principalmente avviene durante la pausa di metà mattina ma anche all'uscita dall'autobus prima che abbia inizio la giornata scolastica. Nel corso dei controlli è stato rinvenuto anche un piccolo quantitativo di stupefacente e all'interno di uno zaino un martellino di quelli utilizzati per rompere i vetri dei pullman in caso di emergenza, motivo per il quale un minorenne è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetto atto offendere. Le verifiche farò sapere dagli organi di polizia proseguiranno anche per il resto dell'anno scolastico, ovviamente con la collaborazione dei dirigenti degli istituti scolastici.